FACCIAMO IN GIRO La destra passa col rosso La via della violenza Il rosso e il nero Infantilismo e dinamite tra il rosso e il nero Sottoproletari e miliardari in crisi Il connubio della violenza Il circolo è chiuso Fascisti e ultrasinistra riunisce il tritoro Cronaca? C'è solo quella ragazza trovata morta All'Alfaia Naviglio Pavese Si sa chi è? No, la polizia sta controllando gli elenchi Delle ragazze scomparse negli ultimi giorni Potrebbe anche non essere di Milano E' stata violentata? Sembra di si Ma devono ancora fare l'autopsia Facciamo che se ne occupi Roveda Si, se ne può occupare lui Però attenzione, controllate il pezzo Roveda è alle prime armi E magari qualcosa di breve, di generico Sulla recrudescenza dei delitti a sfondo sessuale Quante righe? Trenta righe Va bene Le foto, dottore? Oggi il giornale era pesante Troppi pezzi barbosi Cos'è? C'è roba porno come ieri Faccio lei Non fate come l'altra volta Che avete messo sulla stessa pagina Il disastro di Palermo E la pubblicità dell'Alitalia Come è che può finire? E' questa? Se vi fa qualcosa di meglio Speriamo un dirottamento Perfetto Ci vorrebbe una bella strage C'è chi lo vede Me lo mandi subito Perfetto Perfetto